Anche oltre a comprobarci, a comprobarci, a comprobarci, a comprobarci, a comprobarci, quando è il campo di coppia, e noi lavoriamo in questo, dobbiamo venire. A C, a Stresa, ci sarà il nostro amico. Castel Sant'Ange, eh, quello è da spazio. Dove lei cos'è? Noi vissi! A C, a Stresa, ci sarà il sogno di un luogo. A C, a Stresa, ci saranno i suoi amici di una spalla con un po' di sottotitoli. Qui si sta? Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . 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